I molluschi possono essere presenti, ma i brachiopodi sono la maggioranza e popolano maggiormente gli oceani del Siluriano. Tra qualche milione di anni l'equilibrio si sposterà nella direzione opposta. Nel Devoniano ci saranno meno brachiopodi e più molluschi. Per dare un'idea di questa inversione, nei mari dell'era primaria c'erano circa 50 brachiopodi per ogni bivalve. Oggi i brachiopodi sono molto meno numerosi, con una stima di un brachiopode ogni 50 bivalvi. I brachiopodi sono animali marini che assomigliano molto ai bivalvi per via della loro conchiglia a due valve. Senza un minimo di conoscenza dell'argomento potrebbero essere facilmente confusi. In realtà, questi due gruppi sono molto diversi dal punto di vista anatomico e, a differenza dei bivalvi, i brachiopodi non sono molluschi.